era da tempo che dovevo cambiare il bauletto dello scooter e beh ma molti di voi hanno già capito che non è il bauletto dello scooter questo è la custodia del 400 mm f4 essi oggi presentiamo un obiettivo straordinario questa è la custodia con la sua scocca una scocca che rispecchia esattamente quello che è l'obiettivo la filosofia costruttiva dell'obiettivo per cioè essenziale non ci sta niente di più di quello che deve starci e voi direte ma potevano sforzarsi di farla un pochettino è un po più grande magari ci stava anche con la piastra montata oppure ci mettevo una tracolla o un qualcosina no niente l'essenziale perché peso e gombri sono alla base di questo progetto e allora ben venga anche una valigetta come questa piccola chi ha visto quella del 400 2 8 del 500 sa di cosa sto parlando tante cose da dire perché è un obiettivo è un obiettivo che dopo dopo anni ho scelto di tenere questo rispetto al favoloso mastodontico 400 2 8 allora premessa 400 mm e la focale che mi piace di più perché ci si fa ci si fanno tante cose la caccia fotografica si non è un 500 è un 400 certamente a volte direte mannaggia avere quei 100 mm in più però oggi come oggi è una considerazione anche secondaria perché basta montarla sul sensore di una canon 1d e abbiamo già un 600 mm f4 che mi sembra che basti avanzi per quello che devo farci io gli 600 mm e anche proprio al limite della mia apertura fotografica dall'altra parte cosa cosa abbiamo allora un obiettivo che vi dicevo non è neanche un 300 perché è un 400 è un obiettivo che riesce a fare e il la caccia fotografica riesce a dettagliare magari nel paesaggio alcune cose e se ci serve la luna su un picco e l'obiettivo ideale ma a me piace tanto venendo dal grande formato perché il 400 mm in grande formato è un obiettivo che io trovo fantastico per la qualità dei piani per la capacità narrativa vi invito a guardare questo così questa chiacchierata sul sulla capacità di alcuni obiettivi che hanno di descrivere documentare qualcun altro di narrare qualcuno invece che narrare fa della poesia la poesia per me in questione obiettivo molto poetico ovviamente non utilizzato nel suo ambito specifico che sono la caccia fotografica ma quando vado a ritrarre oggetti di medie dimensioni come un tronco d'albero come un fogliame mi regala una verità una trasparenza attraverso questi vetri che altri obiettivi non mi danno ed è quella che ritrovo come vi dicevo nel grande formato grande formato utilizzare un bel 400 mm anche un 360 mm ci dà mi dà perlomeno questa questo racconto questa tridimensionalità che è una tridimensionalità spaziale non è compressa non non è come possiamo dire costretta dall'ambito del fotogramma è quello quasi quello che vedono i miei occhi allora è un obiettivo particolare perché è un obiettivo 400 f4 di o questo di o sta per diffractive obiettivi insomma utilizzare la tecnologia delle lenti diffrative chi fosse interessato consiglio dall'inesauribile marco cavina andare a leggere la descrizione tecnica di come una lente diffrattiva operi rispetto ad una gli obiettivi comuni a lenti con schemi diversi da questo perché diffrattiva perché canon quella volta la intelligentemente ha detto cerchiamo di fare un obiettivo che sia leggero e compatto il più possibile e questo è uno dei motivi per il quale sono anche legato molto a questa ottica sapete che sono un girovago non sono un fotografo da capanno a me la stanzialità non piace con tutta l'ammirazione per i colleghi fanno delle foto che io non avrò mai gli invidio molto però a me piace più camminare mi piace andare a vedere raccontare quello che vedo prendere quei momenti che la natura ci mette a disposizione e non posso farlo né con un 500 millimetri lente strepitosa ma a me tre chili e mezzo per la mia schiena sono impossibili e neanche con obiettivi un po più corti perché il 300 millimetri per me è ancora corto su quello che devo farci allora canon ha detto cerchiamo di fare una lente che funzioni così è giusto per darvi l'idea perché ce l'ho qua questo il 300 millimetri f4 sono altri uguali non solo questo pesa un chilo e tre abbiamo detto nel video precedente questo pesa meno di due chili 1900 e qualche cosa meno di due chili è incredibile come si riesca a mettere in un 400 millimetri che possiamo maneggiare così l'aspetto che secondo me lo caratterizza ancora di più è il bilanciamento nel video farò passare una clip dove faccio vedere che è montato su un monopiede se trovate un equilibrio e appoggiate quindi su un lato il monopiede sta in piedi da solo questo vuol dire una capacità di stancarsi pochissimo una capacità di riprendere lo soggetto con dei tempi anche un po più brevi rispetto a un altro obiettivo la possibilità di angolarlo anche quando non è in posizione statica perché comunque il bilanciamento ci aiuta in questo per chi ne fa un uso come me è assolutamente l'obiettivo da preferire in assoluto anche il paraluce nella descrizione dell'obiettivo vi ho detto c'è il suo anello l'anello si stacca ma in questo caso penso che è un'operazione che non si farà mai anche il paraluce è leggerissimo in questo senso è stato fatto un sforzo proprio per avere un obiettivo che possa essere davvero molto maneggiabile molto trasportabile e alla fin fine insomma tra il chilo e 6 e rotti del cento quattrocento e i millenovecento di questo ci passano tre t che tutto sommato è riusciamo a portarsi dietro questo obiettivo e lo sono portato anche recentemente sulla gusela me lo sono portato su a ritt in barbadia cioè ne ho fatta di strada con questo perché comunque è un obiettivo che non si fa sentire più di tanto perché pesa davvero poco ed è molto ben bilanciato c'è il suo cappuccio per metter dentro l'obiettivo sia con il paraluce montato che ovviamente senza paraluce è un cuoio morbido floscio rigido qua con la sua maniglia per prenderlo anche se preferisco portarmelo dietro in uno zainetto in una custodia imbottita perché diventa molto più facile prenderlo ed estrarlo allora cominciamo cominciamo con una descrizione abbastanza veloce per per chi non così non ha mai visto l'obiettivo a questi quattro switch davanti che sono la limiter del focus qui diventa utile allora ancora un passetto indietro questo è un obiettivo degli anni 2000 ne esiste una seconda versione mi sembra 2011 e cioè la versione numero 2 è una versione che è stata aggiornata non è non è questo obiettivo riconfezionato è stato variato lo schema ottico il peso mi sembra sia aumentato però di pochi grammi ma è aumentato di sicuro invece è aumentata la capacità di resistere al contro luce questa è purtroppo è il rovescio della metà della medaglia dello schema con delle lenti diffrative anche con un paraluce lungo così se voi cominciate a puntare verso il sole cosa che capita di rado però capita perché anche questo tramonto che ho fatto ci si accorge di una velatura che entra non so come ho provato a mettere anche una mano per proteggere di più la luce diretta e mal digerita non che non si porti a casa la foto intendiamoci però insomma ci sono obiettivi che fanno miracoli in questo senso questo no un'altra cosa questo obiettivo ha torto secondo me gode di una fama di essere poco nitido in realtà credo di aver capito leggendo le opinioni e confrontandomi anche con altri utilizzatori soprattutto quando faccio i corsi in montagna c'è anche ciò a chi è fotografo abbastanza o facoltoso o evoluto a seconda dei punti di vista che ha obiettivi come questi mi è capitato un paio di volte di incontrarne anche un tedesco che si lamentava ma è poco nitido rispetto a allora se poco nitido rispetto al 402 8 poco nitido è una parola grossa diciamo che perde il confronto in nitidezza si è evidente e ancora una volta volere la botte piene la moglie ubriaca impossibile c'è un obiettivo così corto che pesa meno della metà di quell'altro è impossibile che non abbia qualcosa da sacrificare tanto è vero che la seconda versione di questo migliora un pochettino la nitidezza però vorrei dire questo non è che non sia nitido o che quando guardiamo le foto ci manca qualcosa e che siamo abituati ad obiettivi come può essere il 500 mm o il 302 8 che sono delle lame veramente non hanno bisogno di alcun alcuna maschera di contrasto perché sono perfette così ecco qui se volessimo per esempio il piumaggio di un uccelletto già io consiglio una piccola mascheratura lo vedete anche voi perché tendenzialmente appare morbido ecco perché mi piace molto anche utilizzato per riprendere vi ho detto il foliage oppure altri altre nature morte di quelle dimensioni come potrete vedere nel video dedicato quindi chi mi dice che non è nitido gli mozzi con le recchie perché perché molto spesso lo utilizzano senza questo è una lente diffrattiva senza paraluce vuol dire non aver capito niente e buttare via i propri soldi perché ha bisogno più di altri di un paraluce che un paraluce molto curato non a caso un altro aspetto rispetto però appunto alla seconda serie e questo qua andava aggiornato un po anche nell'autofocus e nello stabilizzatore fa tutto il suo dovere funziona bene però la seconda versione senza dubbio è migliorata sono obiettivi non ce ne sono tanti è un progetto quello delle lenti diffrattive che canon abbandonato c'erano altri due obiettivi straordinari da produrre ma non sono mai entrato in produzione anche qui abbiamo il rovescio della medaglia cioè l'usato di questi obiettivi specie un obiettivo come il mio che che sembra uscito ieri dalla fabbrica io l'ho comprato nel 2007 quindi questo è un 2006 produzione sono obiettivi che tengono il mercato più di altri perché ce ne sono pochi e chi ha l'esigenza di portarsi dietro un 400 mm di qualità o questo oppure ricorre a qualche scelpa sapete che sono obiettivi molto pesanti e utilizzabile sul monopiede invece che su una gimbolo su un cavalletto proprio anche per questo motivo un 500 mm sul monopiede si finché fotografiamo un millesimo di secondo un ottocentesimo di secondo mi va anche bene ma non appena ho il sole così io andiamo nella boscaglia siamo siamo a terra sono più obiettivi da appostamento vi dicevo continuiamo nella descrizione abbiamo il limiter perché vi ho parlato della seconda versione perché in questo caso per esempio e vi consiglio altamente di utilizzare il limitatore di di messa a fuoco ci guadagna molto l'autofocus è un autofocus veloce reattivo come stiamo parlando di un esemplare una progettazione degli anni 2000 però è chiaro che non è veloce come un 300 f f 2 8 delle ultime serie poi abbiamo il commutatore autofocus manual focus abbiamo poi lo stabilizzatore sì o no i due tipi di stabilizzazione che possiamo utilizzare abbiamo i due agganci per portarlo a tracolla o al collo cosa che io non faccio mai perché non solo in parte per il peso ma anche perché cominciano a essere due chili che oscillano e scampano di qua e di là meglio di no se poi ci mettiamo una macchina fotografica diventano tre chili lasciamo perdere e le mie cervicali ringraziano allora cosa possiamo dire di questo obiettivo invece dal punto di vista della dell'espressione della poetica è un obiettivo straordinario parentesi non vi ho fatto vedere qua c'è il porta filtri come per per ogni obiettivo si incastra l'idea è un obiettivo che a me piace tantissimo un f4 vi garantisce di avere una profondità di campo che è né più né meno di quella che usiamo sugli altri obiettivi di maggior luminosità perché non nascondiamoci il fatto che fotografare uno scoiattolo a sette metri 6 7 metri di distanza come capita insomma quando sei in un bosco significa avere a fuoco un orecchio e non l'altro con un f4 col 28 lavoravo sempre più o meno tra i 354 non solo non certo per una questione di morbidezza perché questi sono progettati per lavorare a tutta apertura perché danno il meglio di sé e ci si prende questa sfocatura eccellente ma proprio perché è uno sfocato così stretto un 400 mm 2 8 che difficilmente lo utilizzate se non quando invece il soggetto è più distante fotografia sportiva uno sciatore un atleta calcio quello che allora lì ci sta perché ci allontaniamo e il 28 ci aiuta in questo senso e ci dà comunque una sfocatura che eccellente questi obiettivi qua però se lavoriamo un pochettino più da vicino generalmente dobbiamo stringere perché il fuoco è talmente selettivo che ci troviamo un occhio a fuoco e un altro no questo per darvi un'idea fermo restando che con questo si lavora tranquillamente su un monopiede se non a mano libera quando abbiamo delle condizioni di luce buona con un obiettivo come un 400 2 8 un 500 o un 200 400 a proposito andatevi a vedere il video dei super tele dove faccio un po di palestra con queste questioni qua perché davvero rimette in posizione un po tutto quanto il fatto di peso e dicevo si lavora f4 normalmente quindi sento di non aver perso molto pur avendo un obiettivo che si ferma tra virgolette a questo diaframma mi piace tanto la resa del colore la l'obiettivo è tendenzialmente soft vi dicevo non è una lama perché tutti gli obiettivi di questa generazione rispetto a quelli moderni sono tendenzialmente un pochettino più morbidi ma non che non siano che non abbiano accutanza è proprio il loro la loro natura essere pochettino più votata a quella che è la la poetica del ritratto piuttosto che andare a dettagliare con con la massima cutanza quello che stiamo fotografando mi sono segnato altre due cose da dirvi per esempio esiste un 400 mm f 5 6 anche di qualcuno dice ma mi compro quello perché risparmio una marea di soldi e comunque insomma 5 6 l'obiettivo canon il 405 6 a parte che purtroppo non ha lo stabilizzatore della pecca più grande che possa avere quell'obiettivo perché è un ottimo obiettivo però è un 5 6 se leggete delle cose nei forum nei tantissimi siti di fotografia dove insomma si dibatte attorno a questi argomenti fate sempre le dovute considerazioni perché molto spesso parla gente che non li ha neanche mai visti e neanche mai avuti ma sono due mondi diversi se non abbiamo i soldi per prendere un super tele il 405 6 vi regalerà grandi soddisfazioni però sono due pianeti e due mondi diversi cioè qui entrate come col 302 8 nel mondo dei super tele dall'altra parte come questo onestissimo 300 f 4 che io consiglio è bellissimo non è la stessa cosa del 2 8 chiusa questa parentesi come si comporta con un converter allora qui come per tutti gli obiettivi che hanno una certa anzianità di progettazione finché lo moltiplichiamo 1 4 si va benissimo aiutati sempre dal limiter mi raccomando perché se no l'autofocus qualche corsa a vuoto se la fa la velocità resta quasi la medesima viene a mancare quella capacità di isolare di riconoscere il soggetto quando è vicino ad altri ad altri elementi di disturbo per esempio vi ho detto uno scoiattolo ecco uno scoiattolo su un ramo e un conto uno scoiattolo fra le foglie insomma ci mette un po di più col converter e quindi dovete aiutarlo ma a questi quattro comodi pulsanti per il blocco della messa a fuoco quindi col 2 per le cose si complicano un po personalmente lo sconsiglierei anche perché comunque un 400 diventerebbe un 800 f8 preferisco montarlo su una camera su una 7d su una 80d a questo punto già il mio bel fattore di crop diventa un 600 f4 e non ce n'è per nessuno allora è un obiettivo che è così ben bilanciato che quasi quasi arrivo a preferirlo sulla 5 dsr che sulla d1x nel senso che quando lo monto su una macchina che di per sé una macchina veramente pesante e tosta al di là della raffica e delle capacità dell'autofocus che sembrano assurde certe volte per chi non ha mai provato riuscire ad agganciare un falco un nibbio incontro luce puro sembra impossibile comunque ce la fanno c'è una macchina straordinaria però diventa un po sbilanciato a favore della macchina perché il centro cade proprio qua il centro vedete che devo per forza tenere un po di più il centro cade proprio qua e infatti una delle diciamo delle caratteristiche che ho notato così nell'utilizzo di questo obiettivo e che quando montiamo un converter andiamo a perdere quel bilanciamento ottimale che invece c'è montandolo sulla testa del monopiede su una camera normale sembra sembra di poterlo gestire su una testa fluida sempre sempre larga il giusto per movimentare è davvero sorprendente non lo cambierei mai perché mi piace sia come resa ottica sia per i dettagli che vado a cercare di fare e soprattutto perché me lo porto dietro quindi assolutamente consigliato per chi vuole fare una caccia vagante oppure vuole fare della fotografia itinerante portandosi a casa delle foto inusuali inconsuete lo vedrete nel video dedicato grazie per seguire video di foto art vi aspetto i prossimi appuntamenti ciao